Provengono da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Mali e Somalia, le 403 persone soccorse nel Mediterraneo e portate al sicuro al molo San Cataldo di Taranto dalla Ocean Viking di SOS Mediterranei e Medici Senza Frontiere, ad accogliergli la macchina dell'appoglienza coordinata dalla prefettura di Taranto e al comune con il supporto delle forze dell'ordine Croce Rossa 118 Protezione Civile e Volontariato. Grazie.